Oggi preparo con voi questi meravigliosi spaghetti e gamberi col pomodoro, iniziamo! Per prima cosa dobbiamo pulire i gamberi e lo facciamo staccando le teste e i carapaci, che non buttiamo via, ma mettiamo da parte per farci, poi dopo vi faccio vedere, una sorta di bisque. Ecco qua, una volta tolta testa e carapace incidiamo sul dorso con un coltello e togliamo l'intestino, che qui è molto pulito, solitamente è nero, come qui nella parte finale. Una volta puliti tutti, li sciacquiamo bene sotto acqua corrente fredda e li tagliamo a metà. Perfetto tagliati tutti, ci spostiamo sui fornelli e in una pentola mettiamo dell'olio extravergine d'oliva, spicchio d'aglio, un po' di sedano, una carotina, e poi mettiamo sette e carapaci, spiacciamo un po', mettiamo il sale, e ora sfumiamo con il vino bianco e lasciamo evaporare per un paio di minuti, sempre a fiamma alta. Evaporato il vino, mettiamo un po' di salsa di pomodoro, o se li avete, dei pomodori freschi, o se li avete, dei pomodori freschi, facciamo una veloce mescolata, poi mettiamo l'acqua, e dal momento del bollore facciamo cuocere per almeno 35 minuti. Ora in padella mettiamo dell'olio extravergine d'oliva, due spicchietti d'aglio, io ci metto un'acciuchina perché mi piace dargli una spinta in più, e faccio dorare gli spicchietti. Bene, una volta dorati gli spicchietti, cerchiamo i gamberi, si scegniamo, e a fiamma alta facciamo cuocere per un minuto, passato un minuto, sfumiamo col vino bianco, e lo facciamo evaporare. Ok, a questo punto metto i pomodorini in scatola con la loro salsa, tolgo gli spicchietti d'aglio prima di dimenticarmeli, regolo leggermente di sale, metto un po' di peperoncino e a fiamma medio-bassa e faccio cuocere per 20 minuti. Bene, passati 35 minuti, filtriamo il, diciamo, questa bisque che non è proprio la bisque, schiacciamo un po', ok, riaccendiamo sotto la pentola e riportiamo a bollore, e qui ci cuoceremo la pasta. Benissimo, visto che la bisque bolle, mettiamo un pochettino ancora di sale e mettiamo a cuocere gli spaghetti. Ok, scolata la pasta, molto molto al dente, la trasferiamo in padella e la facciamo insaporire per bene, mescolando e facendola saltare un po'. Perfetto, la pasta è pronta, ora spegniamo la fiamma, mettiamo un po' di prezzemolo, l'ultima mescolata e andiamo ad impiattare. Ed ecco qui, guardate che bel piatto, assaggio con voi, prendo il gambero, mamma mia, sono buonissimi questi spaghetti! as стали racen間? . .